Di nuovo assieme, ben ritrovati, buongiorno Friuli, siamo pronti per parlare di sport e soprattutto di Udinese-Napoli, la grande sfida della Dacia Arena di questa sera alle 20.45. Partiamo con lo speciale che dedica oggi alla partitissima al Friuli, in un Friuli blindato per ragioni di sicurezza. Stasera regalati un'impresa Udinese contro il Super Napoli di Carletto e Bianconeri stavolta oltre al cuore servono i punti, è arrivato il momento di far contenti i tifosi. Il speciale che apre questa parentesi sulla sfida di stasera con tanti spunti, le voci dei protagonisti e poi anche il filo rosso che ha legato molti affari da Sosa Meret, Trapozzo e De Laurentis. Andiamo a vedere le dichiarazioni anche di mister Velasquez in vista della sfida di questa sera che ha caricato tutto l'ambiente, mi aspetto un Udinese con tanta fame, possiamo fare punti. Il tecnico promette una squadra diversa da quella vista con la Juve, è importante che tutti i nazionali siano rientrati in buone condizioni. Lasagna non conta solo il gol ma anche il lavoro per la squadra, farà una stagione top, ha detto il mister. E poi un commento sul suo avversario Carlo Ancelotti, è un tecnico intelligente, ha cambiato qualcosa ma non tutto del Napoli di Sarri. Poi c'è anche una pillola di mercato, Fofanà verso Napoli, il manager dice mai sentiti. Queste erano le dichiarazioni dunque di mister Velasquez nella conferenza stampa di ieri. Nel dettaglio andiamo anche a recuperare alcuni dei passaggi del mister, qual è il reparto che preoccupa maggiormente. Dice che l'anno scorso la squadra ha fatto grandi cose, lui è un top dicendo di Ancelotti e dimostra che è bravo. Cambiano alcune situazioni, mi è piaciuto il Napoli quando l'ho visto all'opera, è una squadra molto forte che gioca con una velocità in più e che in questa stagione arriverà più velocemente in porta e molto dinamica in alcune situazioni. Poi c'è anche un primo bilancio sulla prima parte di campionato. Il mister dice che in questo momento abbiamo giocato partite di cui tre con squadre del nostro livello e tutte in trasferta. Abbiamo fatto quattro punti su nove che non è male, potevano essere di più a Bologna. Le altre cinque le abbiamo giocate con cinque squadre delle prime nove in classifica. Questa cosa dobbiamo analizzarla, il calendario non ci è stato amico, pertanto serve tranquillità e cercare di migliorarci sempre. Ha dichiarato Velasquez, andiamo a vedere anche le probabili formazioni che scenderanno in campo. La Dacia Arena alle ore 20.30, l'Udinese con il 4-1-4-1, scuffette tra i pali. Poi la linea difensiva con Samir, Nointing e Kong e Larsen. Berami che appunto sarà dietro il centrocampo con De Polman, Dragora, Fofana e Possetto, Lasagna punta centrale. Risponde il Napoli con un 4-4-2 disposto da Ancelotti. Carnezis tra i pali, poi Isai, Albiol, Maximovic e Mario Rui in difesa. Cajé Hon, Allan, Fabian Ruiz e Verdi a centrocampo, Milik e Mertens lì davanti. Non ci sarà come già annunciato nei giorni scorsi in signe. Vediamo anche alle dichiarazioni di mister Ancelotti, vietato, dice credere che sia facile. In signe appunto non ci sarà, l'annuncio l'ha dato Ancelotti. Gli indisponibili sono Luperto, un'asse in signe che lavorerà in questi giorni per recuperare per mercoledì per la Champions. Ha spiegato il tecnico partenopeo riferendosi alla gara contro il Paris Saint-Germain. Nella partita con l'Udinese daremo priorità a quelli che sono stati convocati nelle nazionali e che si sono allenati qua. Ha detto Ancelotti, Milik e Zilinski hanno giocato domenica e dunque hanno avuto tutto il tempo per recuperare. Ospina è arrivato ieri, Diavara si è allenato soltanto oggi. Cosa dice dell'Udinese Ancelotti? Che ha un'identità ben precisa, si difende in maniera organizzata e sfrutta bene il contropiede. Lasagna è molto pericoloso in questo, sono queste le cose che abbiamo pensato per preparare una strategia efficace. Così ha parlato mister Ancelotti. Andiamo ancora ad approfondire questa sfida della Dacia Arena anche sotto altri aspetti. C'è il punto sui grandi passaggi di mercato, il solido asse tra Pozzo e De Laurentiis che ha portato in frutto in un bottino da 91 milioni. Quindi queste le cessioni d'oro che hanno riguardato l'asse Udine-Napoli. Alex Meret, poi Goklan-Hindler, Fabio Quagliarella, Pietro Zelinski, Alan, Pablo Armero, Roberto Sosa e Oreste Carnesis. A proposito dell'ultima cessione, quella di quest'estate di Alex Meret, un friulano nella porta del Napoli. Meret prova a ripetere la storia di Zoff dal 67 al 72, il grande Dino indossò la maglia partenopea. Alex non è stato convocato, per quest'anno salta la sfida a distanza con Scuffet. Ancora in fase di recupero, Meret gioca Carnesis. C'è anche un doppio ex intervistato quest'oggi, ce ne sono stati molti durante la settimana a parlare. E' Inler che dalla Turchia dice non ho dimenticato Udine, lì sono diventato calciatore, il Napoli soffrirà al friuli. Il centrocampista svizzero racconta i suoi otto anni in Italia, i primi quattro con la maglia dell'udinese, gli altri con quella degli azzurri. Per quanto riguarda poi le altre notizie legate alla sfida, c'è la questione sicurezza che vedrà le forze dell'ordine protagoniste. Lo stadio sarà blindato, i tifosi sia solo una partita dopo i precedenti triplicate le forze di polizia. Il questore dice che chi sbaglia paga sul retro della chiesa, sono apparse scritte offensive, rappresentanti dell'associazione Udinese Club e quelli del Napoli Club Friulani invitano a far prevalere lo sport. Speriamo davvero sia così. Andiamo anche ad affrontare poi quale sarà la giornata completa di Serie A che si aprirà oggi con tre anticipi. Prima di Udinese-Napoli in programma, le gare tra Roma e Spalla alle ore 15 e poi Juve-Genua alle 18. Questo è il quadro completo di oggi. Oggi e domani invece Frosinone-Empoli a pranzo, Chievo-Atalanta alle 15 così come Parma-Lazio, Bologna-Torino e Fiorentina-Cagliere alle ore 18. Il grande derby di Milano invece alle 20.30. Inter-Milan lunedì chiuderà il cerchio di questa non aggiornata, Sampdoria-Sassuolo. Una classifica che vede la Juve a 24 punti seguita dal Napoli a 18, poi l'Inter a 16, l'Udinese a quota 8. Si gioca anche in Serie B, ieri c'è stato l'anticipo in vetta tra Spezia e Pescara con il Pescara che ha trionfato per 3-1. Oggi in campo Ascoli-Carpi, Cittadella-Brescia, Cosenza-Foggia, Crotone-Padova, domani Salernitana-Perugia, Venezia-Verona, Lecce-Palermo, Benevento-Livorno, riposa la Cremonese. E a proposito del derby a San Siro, chi si ferma è perduto, la Juve con il Genoa per suonare la nona. Inter-Milan domani sera la partita più importante del turno, la capolista alle 18 contro Piontek, prima c'è Roma-Spal. Questo è dunque il quadro per quanto riguarda la Serie A. Poi torneremo a parlare anche degli altri sport e degli altri campionati, andiamo però sul gazzettino continuando l'approfondimento dedicato alla sfida tra Udinese e Napoli. Eccoci qua con le pagine sportive dedicate ai bianconeri. C'è qualche problema con i titoli, andiamo a recuperare alcune delle parti leggibili. In supporto di Kevin Lasagna tornerà titolare Ignacio Pussetto. Velasquez dice ma lui può fare bene anche da punta unica, vedrete. Mai il pari in questa stagione dei campani, alcune delle cifre che riguardano Udinese e Napoli sul fronte degli precedenti. Ancelotti dovrà rinunciare al gioiello Insigne, così i preparativi in casa partenopea in vista della sfida del Napoli che non ha mai mezze misure, non ha ancora mai pareggiato in campionato a fronte di sei vittorie e due sconfitte contro Samp e Juve. L'ultimo pareggio in Serie A è datato l'aprile scorso quando contro il Milan finì 0-0. Pareggio che non si verifica da quattro stagioni, nelle quali ha vinto due volte l'Udinese, 1-0 con Danilo e 3-1 con doppietta di Bruno Fernandes e gol di Terò e due il Napoli. 2-1 con doppietta di Insigne e l'1-0 col gol di Giorginio dopo il rigore parato da scuffette. L'ultimo precedente dunque sorride al Napoli vinse 1-0, curiosamente stesso risultato della prima sfida della stagione 50-51 con gol di Crizio al Moretti. Questo è il punto storico sui precedenti tra Udinese e Napoli. Passiamo a parlare di Serie C, col Pordenone la minifuga dei Neroverdi nasce da quattro fattori. Rossitto dice sono tranquillità psicologica, esperienza di Tesser, maturità societaria ed entusiasmo dei fan. Il Rinate che sarà il prossimo avversario avrà a disposizione l'ex Finocchio e il giovane attaccante Fiumano Spagnoli. Una gara che sta preparando con dovizia di particolare il tecnico Tesser dopo la vittoria nel turno infrasittimanale contro la Vis Pesaro. C'è anche l'appello del Grillo Zuzzi, tutti allo stadio sei giorni fa il record contro il Vicenza dei 2.889 tifosi paganti nella sfida di domenica contro il Renate. Se vogliono fare il BIS ricordiamo alle 16.30 il fischio d'inizio tra Ramari e Pantere ci sarà anche una novità, aumenta la rete dei contatti del Pordenone Calcio con tanti partner e iniziative di ospitalità. Per quanto riguarda il Pordenone andiamo a recuperare anche le pagine del messaggero dedicate alla formazione nero-verde con i preparativi. Dunque per la sfida contro il Renate che vede il Pordenone affrontarla da capolista. Eccola qua, è sempre Zuzzi che parla, ora battiamo il Renate Pordenonesi, tornate in massa al presidente onorario ancora negli occhi il tutto esaurito di domenica scorsa. Adesso non dobbiamo fermarci, la gente si sta avvicinando e questo è molto positivo per quanto riguarda il percorso in campionato. Le ultimissime di formazione, Germinale, Scalpita, Stefani e Bombaggi pronti a rientrare. Tra le possibili novità di formazione rispetto alla vittoria di Pesaro c'è questo fatto che Germinale si canna una maglia da titolare al fianco di Candellone mentre Stefani e Bombaggi dovrebbero riprendersi il loro posto in difesa e a centro campo. In casa Brianzola, Finocchio Spagnoli, ecco i due giolli del tecnico Adamo, così si prepara il Renate a questa sfida. Per quanto riguarda poi le formazioni Beretti e Juniores, Ramari di Scena Ravenna, la super sfida Chions. Tamai invece per quanto riguarda la serie D alle 15.30, le due formazioni si fronteggeranno a Villotta, hanno bisogno di punti e fiducia. Il Timai invece è stato revocato a una sostituzione di troppo nella sfida col Belluno. Tra le regionali il Casarsa, primo con 11 punti, sfida in casa il Torviscosa e c'è anche il derby appunto in promozione. San Vittese-Casarsa, un derby da tripla. Andiamo a recuperare le altre pagine di sport partendo per quanto riguarda il calcio e dal calcio femminile con il Tavagnacco che avrà una sfida di fuoco col Diavolo. Sarà un pomeriggio impegnativo quello di oggi. Alle 15 giocherà infatti in casa del Milan di Carolina Morace. Le rossonere si trovano nel primo posto in classifica con 7 punti e avranno un avversario particolarmente complicato da affrontare. Queste le gare di oggi della Serie A femminile. Chiuderà domenica la sfida tra Roma e Juventus. Il calcio lo continuiamo ad affrontare anche con la primavera bianconera. Invece perché c'è un altro Udinese-Napoli come antipasto a Manzano quest'oggi. Stamattina alle ore 11 diretta su Sport Italia. I bianconeri sono radici da tre sconfitte con dieci gol incassati. Sassarini proporà ancora il 4-2-3-1 con compagnia unica punta. L'inserimento davanti alla difesa dell'ex Pescara Koulibaly che Velasquez non sta impegnando. Questo appunto anche il quadro e la classifica guida il campionato di primavera 1. L'Atalanta con 12 punti seguita dalla Juventus a 10. L'Udinese assieme a Milan e Genoa a quota 3. Lasciamo anche la primavera e passiamo agli altri sport. Partiamo con il tennis tavolo con la nostra Giada Rossi che vede infrangersi il sogno in semifinale. Si consola con il bronzo ai mondiali. La punghista friulana cede al quinto set contro la brasiliana. Ha sofferto per un problema al gomito. Si dovrà operare questo per il tennis tavolo paralimpico. Andiamo ora al volley. Dicevamo, l'abbiamo visto anche nei quotidiani nazionali, si festeggia l'accesso in finalissima della nazionale italiana di pallavolo e oggi alle 12.40 tutti davanti alla tv a fare il tifo per le ragazze che si giocano loro contro la Serbia. Le ragazze di Mazzanti hanno battuto ieri al tiebreak la Cina in semifinale trascinate dalla Egonu. 45 record assoluto di punti messo a segno con la maglia della nazionale per Paola. E questa è la foto di gruppo al termine della sfida proprio contro la Cina. Dal volley passiamo a parlare di basket perché fermano i preparativi in casa GSA per la terza gara di campionato di nuovo alla Carnera. Totò il fattore GSA dalla panchina, so cosa vuole la squadra da me. Lala Genovese, 31 anni, punta diritto alla sfida di domani in un Carnera bollente. Montegranaro, poi Fortitudo e Ravenna, tra otto giorni sapremo chi siamo. Sono d'accordo con il coach, dobbiamo tenere bene a mente la scopola di Imola per rimanere concentrati per tutto l'arco della gara. Sempre sul fronte GSA, gli avversari, il play Palermo avvisa i suoi occhio ai Big Three. Le squadre annunciate al gran completo per la sfida di domani alle 18 al Carnera. Montegranaro si presenterà all'appuntamento in battuta. La vigilia, il play, Matteo Palermo mette in guardia i marchigiani dalle tre punte della GSA. Gli intrecci, Nikolic ex premiato, ora c'è Petrovic amico di penna. Quella di domani è una partita con molti intrecci tra ex compagni di squadra, amici e connazionali. Questo è il punto proposto proprio oggi dal messaggero. Sempre per quanto riguarda il basket, quello femminile, la Delser al Benedetti contro l'ex Mancabelli. L'obiettivo è continuare la cavalcata in vetta. Quarta giornata dell'A2 alle 20.30. Le ragazze ospitano il basket club Bolzano nel fortino del Benedetti. Serie C Gold, una domenica di fuoco, Latte Blanca, Rompi il ghiaccio, Caligaris all'esame Pio X. Andiamo a parlare anche nuovamente di calcio dilettanti, perché anche quest'oggi in campo con i primi anticipi tra eccellenza, promozione e le altre categorie. Sull'eccellenza, trecesimo a Toro Viscosa, a caccia del terzo exploit. Gemonese cerca rivalsa. Mister Bortolussi ospita l'Abrian che l'ha eliminato in Coppa. Lignano e Manzanese vogliono punti importanti in casa. Andiamo a vedere proprio le sfide di oggi. Oggi alle 15 per l'eccellenza San Luigi Crasse, in promozione girone A al derby San Vittese Casarsa e poi Tarcentina Profagagna, molto interessante. Nel girone B Sistiana Mladost e Virtus Corno Valnatisone con inizio alle ore 15.30. Per la prima categoria, girone C, c'è un altro derby, quello tra Aquileia e Ruda, alle 17.30. Sulla Serie D, dicevamo, Gialis Muzzani in casa con la Delta Rovigo di Fofana e De Agostini. Non si fida, è tempo di far vedere di che pasta è realmente fatta la formazione di Carlino e Muzzana. Alle 15 riceve il Delta Rovigo per il sesto turno del campionato di Serie D. con il mister D'Agostini che dice Nonostante l'ostentato avvio, il Delta Rovigo rimane a mio avviso una delle formazioni migliori dell'otto con giocatori di grande livello. Andiamo anche con il volley, con la CDA che stasera tira la volata a un altro capolavolo Itas. A Trento, Talmassons vuole continuare a vincere in una B1 da protagonista. Domani Martignacco, tra le mure amica, vuole regalare il bis contro Soverato. Le bocce che partenza al Buttre due giornate in Serie A, altre tante vittorie. E poi il rugby, Udine all'esordio in casa contro lo Junior Brescia Club con una mischia fortissima. Abbiamo completato la nostra ampia panoramica per un fine settimana sportivo a tutti i livelli che si pronuncia di veramente carico. Torniamo sui quotidiani nazionali, ritornando anche e soprattutto a parlare di Serie A perché la Gazzetta propone in apertura domani il grande derby di Milano. A noi due, Spalletti festeggia 500 giorni di Inter, Gattuso cerca il trampolino con il Milan, Materazzi e Massaro leggono la sfida. 78 mila la stima delle presenze allo stadio di Milano per il derby di domani. Poi di taglio alto giochiamo con loro l'invito per sostenere le ragazze del volley, un capolavoro mondiale dell'Azzurre, Super Egonus, cacciata la Cina e in finale c'è la Serbia, oggi alle 12.40 per il titolo. Le altre notizie di calcio, Manolassa, Roma mia, bisogno di vincere, l'anticipo contro la spalla alle ore 15 e poi alle 18, CR7, Pionte, Chiuve, Genoa, quella strana sfida del gol. Napoli senza insigni e spazio a Mertens e Milik, turnover Ancelotti a Udine alle 20.30. Sempre dalla prima della Gazzetta, lo sci, Tegola, Gogia, si fa male in allenamento, ciao, Solden, oggi gli esami per il forte dolore rischia un mese e mezzo di stop. Si ricorda che il 27 di ottobre in Austria partirà la Coppa del Mondo. E poi la Formula 1, Vettel, un altro pasticcio, perde tre posti sulla griglia, c'è il Gran Premio negli Stati Uniti con Hamilton che vola. James Mikov, Nedovic, show Olimpia al Pireo, nell'Eurolega Milano, batte l'Olimpia, cosse 99 a 75. Andiamo all'interno delle pagine della Gazzetta, partiamo dal Volley, un'Italia emozione finale, la Cina è murata, sfida la Serbia per loro, il ridato. Dopo 16 anni di nuovo in finale, una partita epica, quella di ieri, 2 ore 15, 45 punti della Egonu per il 3-2 sulle Olimpioniche. Ritroviamo la Bomber Voscovic che ci ha già battuto nella Final Six. Queste sono le probabili formazioni della sfida con inizio alle 12.40. Tutti a fare il tifo dunque per le azzurre. Andiamo sulle pagine sportive interne per ritornare invece sulla sfida tra Napoli e Udinese. Questa sera alla Dacia Arena, Napoli allarme, si ferma in signa, è una precauzione, un affaticamento. Lorenzo non convocato per Udine. De Laurentiis dice che soffre a star fuori, si farebbe in quattro. Stasera il Belga dovrebbe fare coppia con Milik, Mertens, ma per l'attacco e viva anche la soluzione di Verdi. Lavorerà in sede per giocare mercoledì in Champions, invece Lorenzo insigna a dirlo. Carletto Ancelotti ieri in conferenza stampa. Velasquez è ottimista, possiamo fare punti, così il mister Bianconero con tanta fame, l'Udinese sappiamo che ci attendono molte difficoltà, ma possiamo fare punti, ha parlato il mister, sono convinto che possiamo fare bene, tra i partenopei mancherà in signa, un piccolo vantaggio, ma il Napoli è comunque una grandissima squadra con un allenatore top come Ancelotti, che è stato intelligente a modificare qualcosa, ma non tutto, della squadra dell'anno scorso. E poi l'incrocio dei portieri, anche la Gazzetta ci fa un pezzo, Scufet c'è, Carnezzis pure, ma Meret no. I tre sono accomunati dall'Udinese, il greco titolare al posto di Ospina. Questo è il punto sulla sfida tra Udinese e Napoli. Andiamo anche a recuperare le formazioni che presenta la Gazzetta per questa gara con i probabili titolari. Nel quadro di giornata della Serie A, eccoli qua. L'Udinese con il 4-1-4-1, Scufet, Larsen e Kong, Nointing, Samir, poi Berami, a centrocampo Pussetto, Fofanam, Andragora e Depol, davanti a Lasagna. Il Napoli con il 4-4-2, Carnezzis e Stripali, abbiamo Mario Ruiz, Maximovic, Albiol, Malquit, e poi a centrocampo Cajéjon, Allan, Fabian Ruiz, Verdi, davanti Mertens e Milik. Queste le probabili formazioni con fischio d'inizio alle 20.30. Lasciamo la Gazzetta dello Sport, andiamo a chiudere con le altre prime pagine, con il Corriere dello Sport, che titola Prove di Mu. La Juve riparte contro Piontek pensando allo United. Ore 18, Allegri cerca l'undicesima vittoria, avverte dopo la sosta è più difficile. Martedì c'è il Manchester, che alle 13.30 rischia grosso contro Sarri in Premier League. Napoli e Sbarella, Ancelotti prenota a Barella, ideale per noi, più bravo di me, questo per il giocatore del Cagliari, che ha fatto molto bene in nazionale. Tornando invece alla sfida di Udine, in signe stop salta la partita della Dacia Arena, Roma salto alla spalla. Materazzi-Balotelli, che derby sui social, Real, Muro, Lopeteghi, Conte, non lo temo. Serie B, il Pescara in fuga, colpo alla Spezia, 3-1. E poi gli altri sport, Pol di Notte, punito Seb, Formula 1 in Texas, Vettel, pasticcia nelle libere, perderà tre posizioni, dalle 23 la griglia. Le moto invece, con l'Ovizioso che ci sveglia, domani alle 7 a Monteggi, il GP, che può laureare Marquez, campione Ducati, permettendo. Andiamo a recuperare anche dal Corriere dello Sport, la pagina dedicata alla sfida di questa sera, tra Udinese e Napoli. Se riusciamo a ripristinare il touch. Eccola qua. Ancelotti chiama Barella, c'è da grande squadra, è da Napoli, molto più forte di me, alla sua età. bisognerebbe telefonare in banca, la vigilia della ripresa, il tecnico azzurro apre al talento del Cagliari, questo è emerso dalla conferenza stampa di Ancelotti, per la sfida di Udinese, tra l'altro 100 giorni a Napoli, mi sento in paradiso. Lasciamo anche il Corriere dello Sport e ci spostiamo ora sul Tutto Sport, con l'apertura di pagina dedicata alle ragazze del Volley, meravigliose, non poteva essere direttamente, diversamente, l'Italia impazzisce per le azzurre del Volley, dopo la fantastica vittoria sulla Cina, oggi contendono il titolo mondiale alla Serbia. e ancora Piontech esame di CR7, c'è Juve Geno, occhi su Ronaldo e sul Bomber, che piace a tutti, Allegri, campionato e Champions. Proviamo a scattare le altre sfide, Toro, missione Belotti, intervista a Prandelli, il derby della verità, chi vince e vola su Inter Milan, e poi Pisa, grandi progetti, ritorno in A, è un'arena da sogno, così il presidente Corrado. Per quanto riguarda la nostra rassegna stampa sportiva, è tutto, vi ricordo gli appuntamenti di giornata alle 13.30, torneremo live con il Tg di pranzo, i collegamenti dalla Dacia Arena, per le ultimissime, proprio in vista della sfida di questa sera, e poi il Tg delle 19, dalle 19.30 in diretta, con Massimo Campazzo e tutti i suoi ospiti, per seguire anche con i collegamenti in diretta. Cosa accadrà? Allo Stadio, in questa super sfida tra Udinese e Napoli. Grazie a tutti per l'attenzione, e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti per l'attenzione,